Il caso Balneabilità Pescara continua ad arricchirsi di dettagli e nomi. Ad essere indagati ora ci sono anche sindaco e vice sindaco, oltre ai funzionari già resi noti. Marco Alessandrini per tutta risposta continua a dirsi sereno, confidando di aver messo in conto, già da inizio mandato, casi come quello che d'agosto lo vede coinvolto in una vera e propria bufera. Io credo che un conto siano le polemiche e le strumentalizzazioni politiche che si svolgono nell'Aula Consiliare. Poi ci sono gli accertamenti da parte della magistratura. Io, come dire, sin dall'inizio del mio mandato pensavo fra me e me che prima o poi mi sarebbe capitato questo. Mi sarebbe capitato perché l'attività amministrativa significa scelte, significa anche dover fare i conti col fatto che sovente l'opposizione ti denuncia e questo ti fornisce l'opportunità, come mi è capitato, di presentarmi spontaneamente presso i magistrati che indagano su questa vicenda. L'ho fatto accompagnato dal mio legale, naturalmente. Questo ha determinato proceduralmente la mia iscrizione nel registro degli indagati. Di ciò, naturalmente, non sono lieto, però lo metto nel conto dei rischi del mestiere e sono sicuro di aver reso ogni chiarimento, di aver fornito ampia e leale collaborazione e sono fiducioso circa il fatto che il prima possibile questa vicenda possa definirsi.